Vabbè Sì perché te devi da solo una cellula a fare Dai falla te Vai Via tutti da lì Ragazzi sei tutti in campo Partito Silenzio! Azione! Deve essere il nostro segreto Mi raccomando Prosegui? Ma certo, certo Vai dì qualcosa Ma che age di cibo? Guarda vai dìve Che ti devo dire ma Qualsiasi cosa va bene No no quello mai Quello non sarà mai Babo dai sta fuori E che tu fai? Silenzio! Azione! Ho incontrato il postino Che non avevo mai visto prima Oh scusa ragazzi Mi fa ridere sta cosa Io non so cosa voglio insinuare Ispettore Lei mi sembra Mi sembra impazzito Io non voglio crederci assolutamente Stop si riparte Ma di quale lista sta parlando? Commissario Non ispettore No Ecco lui Vai 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 Si ho capito Ispettore Lei sta solo facendo il suo lavoro Si rifà tutta la scena Ultima No 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 solo io Ti dà la fattuta io Ma io non capisco Ispettore No via basta Non è possibile Ma no Ma come è mai Cicci Eh non lo so Ma guarda è tappato le leprezze Allora aspetta Si muove il microfono Una bestia Proprio Lo sento mantenire Ma è giusto Si muove il microfono Stop dai Guarda una stanza questa notte Se è possibile Si abbiamo Sì abbiamo Buonasera Guarda una stanza questa notte Si ne abbiamo una sola Che sta Che sta Lavorando Stop e riparte Che cazzo è che Stop dai Stai Di che Stop Guarda Mi dice anche Cazzo Non è sconizzato Vai stop Vai via vai Che succede? Il microfono che si vede è bellissimo Dove si vede? Si dove? Le lombra Si dove Si vede ma il microfono Ma di che parlare? Si Devi essere forte E qua il bicchiere Stop Davide No anzi Se è possibile Dovrei pagare per altri 30 giorni In anticipo Sono una aspetta di fare Non sono una aspetta di fare Sì c'è Deve girare No 8 minuti Ma no 8 minuti 19 minuti No però No aspetta C'è un problema Che io non so quanto tempo passa Tra una battuta e l'altra Non ti preoccupare Datti di 5 secondi Faccio così Vado a riparlare Così ti faccio segno Guarda la vittoria Guarda la vittoria Va bene Fa piacere però No Mi è partita la battuta Scusa Vai vai Riparti 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 Ah subito Ma lei mi aveva detto Che Ambra era all'ospedale In stato di shock Niente Cerco la signorina Ambra Persi Mi hanno detto Che l'hanno portata qua Stop Il distintivo Se lo sai dimenti E tanto non c'è Si vede Chiuso Com'è te Ma non si vede Ma non si vede Ma non si vede Non lo vedo Stop Salve sono il commissario Taraferri Si senza Che tu fa finta Non via Si vede Stop Io non Andrea io non vedo Non vedo le quadrature Vai ripartiamo subito Senza storia Ma fai vedere cosa si vede Non lo vede Ma non ti ne ne è preoccupare Salve sono il commissario Taraferri Buonasera Mi dica Eh va Dai qua Dio Che c'è Ti volevo dire Che c'è Basta un altro Dai Buonasera Solo buonasera Buonasera Chi cerca Cerco la signorina Ambra Righi Mi hanno detto Che l'hanno portata qua Ma che Ambra Righi Ma che mi ha fatto In casa Vai ripartiamo Vai Non me ne ordo più Ma via Mi impallo Via riparti subito Dai Si è già Vai Che hai le tue ghiacce Allora si è già venuto Un signor E' peggio a far così Vai riparti Tranquillo Cosa deve dire Di preciso Si è già venuto Si è già venuto Circa un'ora e mezza Fa il signor Taraferri No ho sbagliato Vai ripartiamo subito Si è già venuto Un'ora e mezza fa Un signore Il signor Taraferri Può d'essere? Si No Troppi aggiori Ah di Ottogra Ma ripartiamo Dov'è la ragazza? Dove sta uscire per caso? Si è già venuto No aspetta Ho sbagliato io Vai ripart E da lì che devo ripartire Giusto? Si Alla azione Dai per favore Azione Salve Polizia Sono Lagente Girimonti Girimonte Sono Lagente Girimonte E dovrei Sorvegliare La paziente Ambra Persi Si Vieni Sbagliami Cazzo Guarda tu Si è già venuto Un signore Un'ora e mezza fa Circa Signor Taraferri Può darsi? L'ispettore Si E' un commissario No La sera Sono Per favore Polizia Si è già venuto Un'ora e mezza Ti rispondo io Scusate No Il media Ha potuto controllare L'ora fa Chiami subito Conduttore Si Parlatevi Su Caparecchio Maledizione L'ora è troppo Vai che oggi E' oggi Su Tra Ma Ci sei Cappello Che cazzo Lì Che motore C'è in ciaple Andiamo da Un Ora mi viene A me Vedete Ho perso La nostra Vai All'azione All'azione In vita Silenzio Un senso Vai O Abbiamo Trovato Abbiamo trovato Un sensitivo E la figlia Ambra Scompare Come scompare La ragazza E il suo Collaboratore In seguito Sbagliamo Mannaggia Mi è andato Attraverso Un pezzo Di pizza Che succede Ha bisogno Di qualcosa C'è Io Cazzo Ero io Purtroppo Quando Ora mi imbroglio Ero io Ho fatto Un casino Ma è che tu Vuoi Tu mi ha rotto Allora Vai Vai Che ci siamo 10 minuti Sei finito Eh Lo so Buongiorno È permesso? Buongiorno Buongiorno Come state? La differenza Che c'erano le macchine Di oggi E Stop È un È un disattato mentale Dario il capo ragazzi Ho detto disattato Invece che disattato È questo Ah finalmente Ha rapito Ambra E forse Insomma Un no so Ancora È il suo Io Eh Ma ora Eh No La storia Ha rapito Ambra Dicevo Ma secondo te Che mi ha voluto Non mi piace Mi piace Mi scusi il capo Ma vedete Abbiamo notato Un quadro Assolutamente identico Alla storiella Che mi parlava Madonna Della madonna No a parte Tutto Le cose sono due O Insomma Ancora Non si sa Non si sa Non si può fare Le cose così Io penso di sì Altrimenti Facciamo molto Alla svelta Non ho detto Altrimenti Non mi piace Arrivederci Vi Vi comincio Vai Vai 3 1 8 Comincio Asione Sensitivo De Santis È lui De Santis Stiamo arrivando Guarda me Guarda me No 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 Io vado da Filippo Deco trovare la casa Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Bravo Filippo E poi vengono a dire Che i serbi Non servono a nè I serbi? Bravo Filippo Non mi hai ricordo E poi gli c'è Vengono a dire Bravo Mario Ciao Porco Giuda Bravo Mario Ora morirei Che peccato Madonna Che peccato Non devi venire qua No Sì Non è proprio peccato Ti devi caricare Ti devi caricare e venire subito in qua Vai Di quello che io ho sopportato Abusti Hai capito? Cazzo Stop Senza Svanisce nel nulla Ancora Stop 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 Azioni No ora devi guardare Io sono partito Azioni Fatti sentire Zitto Fai serio Che sta per morire Ti sento No Perché ti sei andato Troppo Azioni Non sono io Quello Non mi piace Vai Fala subito Vai Andai Il gattino E non mi ricordo Io No Questo Sei tu Roberto Sei tu Non mi ricordo O vedi Il leone È la tua Doppia Vedi Roberto Il gattino È Sei tu Il gattino È Se Aspetta No Vai Sì Raffa Azioni Roberto Il gattino È la tua No Dai guarda lui Raffa Il gattino Guarda me Il gattino All'apparenza No Guardi noi Mario Azione Azione Puttana miseria Ma adesso Ce la fa Guarda di è nato! levati dai coglioni ma levati un po' dai coglioni dai non sai essere più co vai via stronzo stop e non continuo a bere sono morto affatto no spero spero no io mi incazzo stop fermo eh stop fermo d'aver generato un piccolo bastardo ah stop mamma è un 10 il padrone è andato guardalo 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 là stop bellissimo bravo una cosa meravigliosa com'è venuto? una luce ragazzi bello bello sono contentissimo bravo è una fila di lavanni è un po' 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 è un po'